Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video Purtroppo devo chiedervi scusa per l'assenza E lo so, è passato circa un mese dall'ultimo video caricato E' stato un mese molto movimentato tra quelle che sono state le gare E qualche problema che abbiamo avuto con la macchina Che avrete sicuramente modo di vedere mano a mano andando avanti Siamo quasi giunti nel periodo natalizio come potete ben vedere alle mie spalle E ecco, tra l'altro mi sono dovuto trasferire da un appartamento ad un altro Quindi ho purtroppo avuto altri impegni che mi hanno impedito di fare video Comunque ci siamo, siamo tornati e dobbiamo rimetterci assolutamente in carreggiata Con la registrazione e il montaggio dei video Stiamo per l'appunto andando a vedere in questo appuntamento La seconda gara dell'appuntamento di Magione Come avrete ben visto in gara 1 abbiamo stradominato inizialmente con il maltempo solo brutto il cielo Poi ha iniziato anche a piovere in sotto regime di safety car Quindi la gara è andata a chiudersi così Adesso partirò dalla pole position e sarà bagnato e si partirà con le rain Sicuramente qualcuno di voi ricorderà varano dello scorso anno Cosa successe sotto il bagnato E più che altro, più che cosa successe, come andò Quindi senza dilungarci troppo in altre ghiacchiere Direi andiamo subito a vedere quello che è il video di gara 2 Direi andiamo subito a vedere quello che è il video di gara 2 Ciao! 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 troppo ho provato più volte a staccare e ridare energia al motore ma lo sento al quanto strano e devo dire questa cosa un po mi preoccupa speriamo che non sia nulla di grave soprattutto che mi consenta di arrivare al termine della gara la gara Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il motore non è dei più splendidi e sento ancora quel qualcosa che non va che non migliora assolutamente. Speriamo che appunto non entri lo safety car o che comunque sia non mi diano troppe noie. Altrimenti credo proprio di essere fottuto perché questo motore non ce la fa più a fare nulla. Grazie a tutti. 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 Appunto, come vi dicevo poco anzi, il motore non ce la fa proprio più. Credo che si è abbagnato qualcosa a livello di elettronica anche perché il motore non ha scoppio praticamente. Quindi, non so, dovrebbe andare a tre per quello che riesco a capire, ma diciamo che sostanzialmente sugli altri regimi ha forza. Il problema è sotto, nei bassi giri che il motore non ce la fa. Infatti appunto, Tarani, Massaro mi stavano troppo riprendendo sotto la ripartenza della safety car. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.